Giuseppe Santucci, Sauter Nuovio, Milano Independent, categoria Scaled, open, giudice per Giuseppe Santucci, Alberto Amore, cross e level 1. I pesi sono 10, 10, sbarra da 20 kg, 10, palla da 9, 9, altezza, vai, aiutami. 1,50 kg, 3 metri, 3 metri in riga verde. Poi ci sono i 2,5 kg, 2,5 kg, 25 kg, 25 kg, i timer si sono un timer e l'altro timer. Barra, tu la, tu devi vedere sempre questo, questo non devi mai cadere per questo, così. Siamo? 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 Ma tu pesi dietro? Siamo? 1, 2,5 kg. 1, 2,5 kg. 1, 2,5 kg. 1 2 4 8 6 7 8 8 8 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 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 16 16 16 16 17 17 15 16 16 16 18 19 19 20 20 20 20 19 20 20 21 21 20 22 23 23 23 4, 5, 6, 7, 10, 10, 10, 11, 12, 16, 27, 29, 30belli dai, fanno due o tre dai, buona bravo, santu ottimo, ottimo, santu sono 62, bene non lo perdi, giusto? sì, ce l'ho, ce l'ho sto facendo spalle intanto è figa tre Grazie. Tanto tempo ne hai per fare un colpo, vai tranquillo, Sam. Tanto tempo ne hai per fare un colpo, vai tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo. Non perdere la schiena. Non perdere la schiena, concentrati. Hai 40 secondi per farlo, vai tranquillo. Non perdere la schiena, vai tranquillo. Non perdere la schiena. Dai, dai, Santo. Dai, dai. Dai, ce l'hai. Bene. Bene, bene. Un minuto di pausa. Ottimo, Santo, bravo. Ottimo. Un minuto di pausa. Bene, bene, Santo. Hai un minuto di pausa. Ma non pausa. dai santo hai 30 wall ball chest to bar però devi stare sotto i mille di chest to bar santo che non ci stanno nella stringa vai 10 secondi devi non preparare lo stesso 1 2 3 4 3 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bene bene 21 22 23 24 25 26 27 28 29 no bene bene santo non pensavo volessi ancora sollevare dai 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 dai dai sgranchisciti le braccia scioglile scioglile santo scioglile vai 1 2 3 togliti le braccia non stare fermo 4 5 3 3 3 4 5 dai santo dai santo su sciogliti sciogliti bene le braccia dai 8 9 dai 30 secondi dai 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 santo 15 dai ancora 5 su 1 dai 2 dai santo dai 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 basta finito è pubblico è pubblico giù dai non